Ciao a tutti ragazzi sono io Wattdonuts e siamo qui su Payday 2 è la prima volta che porto questo gioco nel canale ma non sarà la prima appunto perché ragazzi ho pochi giochi c'ho Payday 2, Mortal Kombat 10, Warframe come avete visto nei vecchi video allora questo gioco parlare un po' è fatto di picciolamente rapine di appunto uccisioni di sparatorie e di stupri no direi di stupri direi di no sono qui con Houston e John Wick i miei amichetti le mie personali intelligenze artificiali allora premetto che io il mio stile di gioco è stealth lo adoro e quindi cercherò di fare anche questa anche questa anche questa stealth così quindi mettiamo la maschera e iniziamo col massacro ok mi raccomando rispondete al cerca persone basta un niente alzare un po' il dito o dimenticarmene e sarete fottuti ragazzi quindi direi di ricordarveli e di farlo poi con questo gioco potete giocare con amici quindi vi divertirete un sacco ragazzi io ve lo consiglio allora vediamo qua che qua c'è una tipa mi serve anche per sbiccare cavolo ok scassiniamo da questa parte e passiamo alle sue spalle ok c'è una tipa mi serve anche per sbiccare giù a terra a terra bravi a terra ok voglio dire di spostarlo da qua allora qua ci sono buona parte dei gioielli però direi di pensarci dopo perché se iniziamo a rompere i vetri ora ci sarà un bel casino quindi io direi di mettere il germe così non posso cambiare la polizia rispondiamo al cieca persona mi raccomando fatelo fatelo assolutamente bene meno male che volevo farla devo farla abbastanza stealth anzi volevo farla stealth però ragazzi questi sono i contattempi purtroppo c'è un altro qua dove scappi meno male ce l'ho fatta ragazzi mincega ok io direi di legare questi qua davanti portarli dietro non si sa mai che qualcuno poi passi ok ce l'ho fatta ok ce l'ho fatta ok tu ora puoi dove sei ok tu puoi restare giù ok manca l'ultimo ok non vi preoccupate di questo punto di domanda perché le prime volte che ho giocato a questo gioco mi sono mi ha preso una paura un attacco pensavo che ci fosse gente che pensavo che ci fosse gente che sa da per scoprirmi invece erano semplicemente quelle teste di idioti cavolo mi sono gelato quando ho visto questa cosa ok ok qua non c'è niente io direi di iniziare a saccheggiare gioielli gioielli tutti i miei che poi non me ne faccio niente però perché sono un maschiaccio e quindi direi di prendere tutti no mi sono dimenticato uno qua niente ok adesso c'è anche questo io direi ragazzi di prendere tutto oh la borsa Gucci la voglio ok io direi di prendere tutto quanto ok iniziamo a rapinare sul serio allora questo adesso faremo fare borsoni ma tanto io ho ho sbloccato un'abilità che mi permette di lanciarli più lontano quindi non c'è proprio nessun problema ok prendiamo tutto 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 anche se mi bastano tre borsoni io direi di prendere tutto quello che possiamo prendere così ci facciamo i soldoni ok ho fatto quel vetro per niente ragazzi ok mi raccomando prendete tutto perché magari potete anche potete anche cercare di prendere tutto ma dimenticarvi qualcosa durante il percorso diciamo anche se vi consiglia cinque borsoni se riuscite a farlo fatene di più vi conviene sempre naturalmente tutto quello in più aumenterà il vostro guadagno quindi io direi di prenderlo ok ragazzi stiamo andando davvero davvero bene orologi questi me li prenderei io me li metterei io ogni giorno uno per la settimana una settimana perfetto ok qua mi sa che siamo per finire ragazzi ok mi sembra di aver preso tutto iniziamo a portare i borsoni dovrebbero essere 5 o 6 mi sembra di averne contatto non lo so guardiamo ok si in tutto sono 6 quindi ci prendiamo il doppio dei borsoni ragazzi niente davvero niente male stiamo andando davvero davvero bene ok no non avvicinarti troppo alla lena bianca sennò poi parte senza i borsoni ce ne mancano altri 3 ok perfetto ragazzi che stiamo finendo cerchiamo di chiamare la polizia perché se viene fa un attacco della polizia posso rischiare di fare una seconda missione ovvero di cercare di difendermi dall'assalto dei poliziotti e poi rifare tutto da capo quindi riprendere i borsoni e portare in un altro camion quindi direi di evitarlo mi sa che ho lavorato bene quindi mi merita anche un sorvenire ragazzi ecco qua no non ho più sacchi per cadarvi vabbè ah c'ho questo un bel souvenir purtroppo avrei voluto prendere la borsa al Gucci ma appunto penso che se giochi con un personaggio donna quello la puoi prendere no scherzo sicuramente è solo di estetica ok ecco il cadavere barra souvenir io direi di finire la missione ecco qua ragazzi abbiamo finito adesso vedrete quanto guadagnare se fate così direi che è già buono non è eccellente ragazzi appunto 38.000 non è eccellente ma di partenza vi da 30.000 questa modalità questa missione quindi va bene vediamo cosa esce tra queste carte spero una maschera ragazzi spero vabbè vabbè esperienza aggiuntiva niente male niente male che dire ragazzi da Wals Donuts è tutto spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel pollice in su verso l'alto non verso il basso perché meglio verso l'alto e Wals vi saluta con una bella maschera da Babbo Natale alla prossima